Una gioia da esibire. 22esimo del secondo tempo di Montenegro-Svizzera, gara del gruppo G di qualificazione agli europei del 2012. Il romanista Mirko Vucinic segna il gol della vittoria e non si contiene. Togliersi la maglia? Troppo scontato. Il centravanti giallorosso corre, si agita, dribbla i compagni. Alla fine trova il modo per sfogarsi. Si cade i pantaloncini e resta in mutande. Vorrebbe lanciarli al pubblico, ma i compagni di squadra gli si stringono intorno e lo convincono a rimetterseli prima di scortarlo a centrocampo.